Buongiorno ragazzi, si considerano le funzioni S, T, F definite da R in R. Così definite S di X è uguale a X più 1 e T di X è uguale a meno X. Applicando S volte la funzione S e T volte la funzione T, in ordine non noto e non necessariamente consecutivo, si ottiene F grande di X uguale a 8 meno X. Quale affermazione senz'altro vera? Che S deve essere 8 e T deve essere 1. La B che S è dispari e T pari. La C che S è pari e T deve essere dispari. La D, S e T sono potenze di 2. La E nessuna delle risposte precedenti. Vediamo insieme la nostra soluzione. Notazione. Denotiamo per questo quesito la funzione F alla N come la composizione ripetuta data la funzione F e N un intero positivo. Quindi F alla N vuol dire comporre F per N volte. Ci siete ragazzi? Ora facciamo qualche osservazione su come funzionano le nostre funzioni. S alla S di X non è altro che S alla S meno 1 su S di X, ma S di X che cosa fa? Quella interna trasforma X in X più 1. Ora facciamo la stessa cosa. Questo diventa S alla S meno 2 di S di X più 1, ma quella interna trasforma il nostro X più 1 in X più 2. Procedendo in questo modo, arriviamo ad applicare l'ultima funzione S e otteniamo il risultato X più S. Quindi S alla S di X dà come risultato X più S. Andiamo a vedere invece come opera la funzione T. T composta T di X non è altro che meno meno X, quindi mi restituisce come risultato X. Posso quindi dire che T applicata due volte, quindi T al quadrato come notazione, non è altro che la funzione identica. Ora, ragazzi, che abbiamo capito come agiscono le nostre funzioni, analizziamo le varie risposte proposte dal quesito e cerchiamo di capire qual è quella corretta. La prima dice che S deve essere necessariamente 8 e T 1. Se applico la funzione S 8 volte, in effetti vado a finire in X più 8 e se applico T una volta, vado a finire in meno X più 8. Quindi ottengo davvero la funzione 8 meno X, che è la risposta, quella che voglio. Ma non è necessario avere questi valori, perché se ci pensate, anche S alla 8 composta T alla terza mi dà lo stesso risultato. S alla 8 composta con T e poi ancora T quadro mi dà la stessa risposta, come il nostro S alla 8 composto T. Ci siete, ragazzi, tutti questi danno F come risultato, quindi non è esatta, non necessariamente devono assumere quei valori. Per quanto abbiamo appena visto nell'analisi della prima risposta, abbiamo trovato come possibile soluzione T uguale a 1 e S uguale a 8. Quindi questo è proprio un controesempio per far capire che non è vero che deve essere S dispari e T pari. Anzi, abbiamo provato che T deve essere necessariamente dispari. Alla luce di questo, possiamo anche collegarci a questa spiegazione per escludere tra le possibili soluzioni anche la numero D. Quindi B e D non sono le risposte esatte. Analizziamo la C. Se C risulta vera, ovviamente la E che dice che nessuna delle precedenti è vera, è falsa. Viceversa, se C non è verificata, risulterà E. La risposta è esatta. S pari e T dispari. La composizione ripetuta di S e T abbiamo già visto che porta a più o meno X più M, con M appartenente a Z, non per forza positivo. Ogni volta che io applico T, la mia funzione cosa succede? Cambia segno. E ogni volta che applico S, la funzione invece lo mantiene il segno che aveva. Quindi T, per andare nella funzione F, ricordiamo, 8 meno X, deve essere applicato un numero dispare di volte. Ora parliamo dell'8. Applicare T non comporta cambi di segno su M. E ogni volta che applico S, io modifico la funzione. Aggiungo 1, termine noto. Quindi S deve essere applicato un numero pari di volte, esattamente 8 volte. Posso quindi concludere che S pari e T dispari è la risposta esatta, la nostra C. Spero che sia tutto chiaro, ci vediamo domani con il prossimo quesito. Buona serata.